Ciao a tutti da Yote e bentornati sul canale. Questa sera... Eh, il cooking simulator, esatto. Ora, continuiamo con questo tutorial che avevamo lasciato l'altra volta. Allora, dici di prendere una pentola e versarci circa 700 ml di brodo di pollo. Attenzione, nuova ricetta con brodo di pollo. Questo è brodo di pollo, però sì, perché quella è la panna cotta. Panna cotta, quello che è. 700 ml. Eh, tipo... Sì, ma se togli la scritta, magari... Che rumore strano che fa sto brodo di pollo. Ho capito, per favore, gordino. Che qua... Già il rumore fa abbastanza schifo. Basta, l'ho posato, eh. Poi, sale, 12 grammi. Allora, andiamo. Sale. 12 grammi. Poi... Adesso condisci il brodo di pollo con la ricetta ricorda... Che puoi verificare la ricetta per... Vabbè, eh... Pepe nero. 12 grammi. Vabbè, 13. Poi sarebbe questo. Ok. 12 grammi pepe nero di Cayenna... 6 grammi. Questo. Vabbè, 7. Abundim. Abundare è meglio che deficere, quella roba lì. Poi, 960 grammi di... Pomodoro? Aggiungi 8 pomodori in pentola grande. Ah. Andiamo a prendere i pomodori. Allora, 8... Oh, oh, piano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Per l'ingrede finale ci serve una cipolla. Come potevi dire prima la cipolla, però? Cipolla. Così, proprio. E deve avere sul piano cottura. Che è questo qua. Ok. E fai bollire la zuppa per quanto? Fai bollire per 60 secondi? Così poco? Vabbè. Se lo dice lui... A me non me pare, però vabbè. Metti giù in un'area segnata completa. Fai bollire e zuppa. Se lo spostiamo che dà fastidio. Questo cos'è? Servire cibo bruciato, le parti, i molli. Secondo me non è 60 secondi, eh. Ma secondo me lo devo frullare. Perché qua è frullato. Mescola, aggiungi... Fai bollire per 60 secondi. Mescola. Aggiungi panna acida. Versi il brodo in una ciotola. Servi bollente. Ciotola. Ciotola... Ciotola base. Ciotola profondo. Secondo me è quella perché il piatto è grande. Ok, 60 secondi. Secondo me si doveva mescolare prima. Scusate se... Secondo me si doveva mescolare. Come si fa a spostare... Ah, basso. Secondo me è così. Zuppa. Infatti, fai bollire zuppa. Non pomodori. Maledetto tutorial. Ma qua non si può aumentare di più. Cioè, scusami, eh. C'è solo due. Ma se gli metto... Questa... Sopra qua, cosa succede? Chi lo sa? Si può attaccare? Sì, questo si attacca. Ok. Odio il microonde, non mi piace. Non sta bollendo, però. Non bolle. Perché non bolle? Perché ho sempre problemi in questo gioco? Perché? Perché? Dove si va? Voglio uscire. Fatemi uscire. Basta con la pasta. Bollisciti! Ma se ti cambio di fuoco, magari è il fuoco che non va bene. Non lo so. Io non lo capisco, signori. Aiutatemi. Non bollisce per 60 secondi. Quindi non bolle... No, non bollisce. Proprio non bolle, non ce la fa. Il piatto è giusto, però. A meno che lo dobbiamo mettere dentro il forno? Ma no. Non avrebbe senso. Ah! Adesso sta... Mannaggia. Adesso che ho cambiato il forno. Il fornello adesso va. Cioè, ditemi voi. Cioè... Cioè... Va bene, va? Comunque ho capito una cosa. Che è meglio guardare la barretta che stare lì con i timer. I timer ti servono. Se tu fai altro, tipo sei qua... Allora, se ti... Setti il timer, allora ti ricordi che devi andare a spegnere. Oppure se hai due cose e devi curarne una e stare attento a una e non all'altra, allora lo fai. Ma secondo me questo fornello è rotto, però, eh. Perché... Vabbè. Aspettiamo questi 60 secondi che sono 60 secondi reali, tra l'altro. Non è che ci mette di meno, no? Mi sta facendo aspettare 60 secondi reali. Cioè... Cos'è questo rumore? Meno 4, meno 5. Eh, lo so. Purtroppo c'aveva il fornello rotto. Non è colpa del cuoco. Dopo che vuole... Panna acida. Verso il liquido. Non serve... Panna acida. 150 ml. Ok. Panna acida. 150 ml. Ha quasi finito. Adesso dovrebbe darmi l'ok per la zuppa bollente, no? Non me lo dice. Mannaggia. Aiuto! Fatemi uscire. Non me lo dice che bolle. Dai, dammi l'ok per la bollitura. Signori... Ma non c'è niente qua. C'è un muro. Ah, c'è qualcosa. Ma tu dici che si può... Oltrepassare? Ma poi perché sono in un piano altissimo? Sono a New York. Ma questo? No, no. No. Questo? Zuppa di pomodoro. Siamo in ritardissimo. Eh, non mi dà la... Spengo. Accendo. Spengo. La sposto qua. Scegli quant'è... Ma la dà rossa. Secondo me sta bollendo. Anzi, io faccio così. Lo sai che ti dico? Prendo questo. Anzi, prendo la panna acida. Quanto è che ne voleva? Panna acida 300 ml. Io te la metto qua dentro. Madone, ma che schifezza è sta roba, oh. Poi prendo questo. Ah, non così. Ok. Prendo questo, vado qui e lo servo in questo piatto. Che cazzo... Che cazzo... No. 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 Ho buttato tutto per terra. Perché? Perché siete così cattivi? Perché? Non rompo tutto. Non si può mettere questo qua così? Posso metterlo qua? Fermo lì, fermo lì. Voglio vedere cosa succede, eh? Cosa succede se io faccio adesso così? No? Prendi quello. Prendi. E mettilo qua. Oh. Non succede niente. Pensavo che... Esplodesse, facesse qualcosa. Gli stintori ce l'ho... Infiniti? Oh. Fermo lì. Esploso. Però non l'ho capito. Non me l'ha fatto vedere. Spaccato tutto. Questo? Esploderà, secondo voi? Sì! Grande! Però perché non mi ha buttato... Non capisco la cottura. Spiegatemi. Ok. Ci riproviamo. Questa panna acida... Averti qua. No, eh? Non ti piace metterla qui, eh? Qua. Ok. Ci riproviamo. Facciamola bollire per 60 secondi. Ah, adesso si sta cuocendo. Prima era qui, non si cuoceva. Adesso che qui si cuoce. Ok. Che casino c'è fuori? Oh, che suona? Non si possono spegnere sti cosi? Ok. Spegni il fuoco. Frulle tutto insieme. Tu non servi più. Ok. Praticamente si deve... Si deve seguire alla let... Cioè, se lui ti dice di mettere la pentola qua, tu la devi mettere qua, non qui. Perché altrimenti è un casino. Ok. Questo lo posiamo. Questo lo mettiamo qua. Ok. Versa panna acida 150 ml. 150 ml. Qua dentro. 150 ml. Non c'è 300 ml. Che schifezza. Che colore marrone. Ok. Per lui era buono. Prendiamo la ciotola. Ah, meno la ciotola l'avevo azzeccata. Era questa. Versa il composto. No. Ah, così. Ok. Adesso stiamo calmi. Come si fa a versare il composto senza buttarlo a terra? Entriamo nel contesto. Eh? Premi questo e dopo aver premuto una volta, tieni premuto mentre lentamente versi la zuppa nella ciotola. Ok. Allora. No. Così allora. Di qua. Quanto è la ciotola? Quanto devo versare? 300. Vabbè, 400. Dai, mangia di più questo qua. Oh. Mangia di più. Sì, però questi sclacson così dovrebbero... Vai, vai. Zitti. 5. Uè, attenzione. Sono un grande sceffro. Poco mi danno un cappello. Grande. Bene. Direi che... Per oggi è tutto. No. Un altro ordine. Ma quest'ordine lo vedremo la prossima puntata. Per oggi è tutto. Perché dopo la zuppa provata tre volte non c'ho voglia di passare al salmone di trota. Perché la trota, lo sapete, si gira, si fa, butto a terra. Oddio. È un casino questo gioco. Però è divertente. Anche la canzoncina ci sta di sottofondo. Come sempre. Grazie a tutti. Spero che vi sia piaciuto il video. E... Che vi siete fatti due o tre risate. Io sì. Anche se ho sclerato. Mi ci sono divertito. Cambierei qualche peccanica. Però... Il gioco è divertente. Quindi, come sempre, siete medici. Grazie di tutto. E alla prossima. Bye, bye.